e già nel ring l'arbitro del prossimo incontro ci prepariamo per annunciare il co-main event della serata e quindi per tutti voi che siete nel teatro 1 di Cinecittà World è arrivato il momento che i guerrieri entrino nell'arena chiamiamo all'angolo blu da Atene, Grecia Nikos Odis Brovias Grazie Chiamiamo sul ring il suo avversario torna a combattere il magnifico Gabriele De Magnificent Casella Grazie 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 Buona visione Grazie 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 Signor Rodolfo Meoni da Pistoia all'angolo blu con un record formato da 37 incontri disputati 30 vittorie e 7 sconfitte per lui blu ricampione di Grecia per il team Diamond Camp da Atene, Grecia Nikos Odis Brovias il suo avversario all'angolo rosso con un record formato da 91 incontri 88 vittorie per lui 3 sono le sconfitte l'ultima contro quell'Artur Kishenko poi squalificato per doping torna sul ring il fighter che più ha vinto in Italia nelle discipline da combattimento già blu ricampione d'Italia nelle discipline Muay Thai, K1 Rules e Pugilato già campione europeo Waco disciplina Full Contact già campione del mondo Waco e Waco Pro disciplina K1 Rules già campione del mondo WMO disciplina Muay Thai già atleta delle nazionali italiane Feder Combat e Federazione Pugilistica Italiana riserva olimpica nell'edizione Tokyo 2021 nella disciplina Pugilato categoria 91 kg per il fighting spirit team da Roma Italia il magnificente il magnifico Gabriele Casella Grazie 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 a tutti. È la prima ripresa, first round. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.